ah! una tavolozza! e a che cosa serve questa tavolozza? cu? dai nani, dacci l'ultimo indizio cos'è questo? non voglio il decaffeinato ehi tu, pronto? nessuno ordina il decaffeinato come Gaston mi sfugge il senso ironico tirate fuori il libretto degli assegni e le carte di credito per il primo cartone di oggi la grande vendita di Paperino!